Sono 60 progetti che potranno essere finanziati grazie ad un investimento di 5 milioni di euro nel biennio 2022-2023 destinati agli interventi straordinari di riqualificazione del patrimonio immobiliare siciliano attraverso la riprogrammazione dei fondi del piano di sviluppo e coesione da parte della Giunta regionale. Tra gli edifici storici interessati c'è anche il castello di Pietrarossa di Caltanissetta. È stata pubblicata infatti qualche giorno fa la graduatoria definitiva relativa al bando dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e si prevedono così ben 63 progetti ammissibili. Tre di questi infatti potrebbero essere realizzati con le eventuali economie, si legge nel comunicato, essendo infatti il bando a sportello. Finalmente potremo vedere il castello di Pietrarossa illuminata e quindi poterlo vedere anche di notte quando non c'è la luce del sole. Il progetto è stato definitivamente approvato, è stata pubblicata la graduatoria definitiva e ci è stato assegnato appunto il finanziamento. Siamo adesso in attesa del decreto di finanziamento che dovrà emettere la Regione, dopodiché potremo immediatamente attivarci per fare il bando e quindi successivamente realizzare le opere. I tempi previsti sono circa nove mesi, sono 270 giorni dalla pubblicazione del decreto di finanziamento. Grazie. Grazie.